Un'avventura per te che inizia quest'anno in questo nuovo ruolo, dopo una lunga carriera a calcare l'erba dei campi, come ci si sente a costruire squadre? Sicuramente è una sensazione diversa da quelle che ho passato finora, però quando mi è arrivata la chiamata sinceramente non ci ho pensato più di tanto. Era quello che mi sarebbe piaciuto fare dopo aver smesso e quindi quale migliore occasione nel mio paese e quindi alla fine sono contento così. Per dare un contributo importante alla rinascita del calcio neretese, si segna quasi un punto zero quest'anno dopo tanto tempo e con quali ambizioni? Sicuramente si è ricreato un grande entusiasmo e anche dalle presenze oggi al campo penso che ce ne siano poche di società di eccellenza che abbiano questo seguito nella prima uscita stagionale. Sicuramente si respira un'area diversa, si respira voglia di vedere calcio dopo tanti anni, c'è tanta curiosità e diciamo che abbiamo rianimato un paese che, come ti ho detto prima, è troppi anni che è fuori da questo giro. Su quale linee ti sei mosso per costruire questa squadra? Ci siamo mossi insieme al mister, abbiamo avuto il piacere di poter condividere tutte le scelte, siamo contenti perché comunque le scelte che abbiamo fatto sono state tutte quante delle prime scelte e quindi non ci siamo dovuti adattare su nessun giocatore e quindi siamo felici della rosa che abbiamo fatto, manca qualcosina a livello di fuori quota, però diciamo che per gli over abbiamo completato la rosa. È una società ambiziosa ma anche la piazza ovviamente si aspetta tanto, l'obiettivo di questa squadra nel Nereto qual è? L'obiettivo è sicuramente quello di fare bene, poi dipende dalla squadra, partiamo sicuramente da una base che è il mister che è sicuramente una certezza per questo campionato, poi dire dove può arrivare la squadra ci dobbiamo ricordare sempre che comunque è una squadra completamente nuova, quindi sicuramente ci vorrà un po' più di tempo rispetto magari alle altre che hanno confermato 6-7 giocatori nella passata stagione, però secondo me è una squadra che può fare bene, poi questo dove potrà arrivare sarà soltanto il campo a dirlo.